Ruolatrice, ruolatori, buongiorno! Bentornati al primo mercoledì da Favula con il nostro Ottone E con Emanuele Galletto, non è Emanuele Galletto questo qua, come potete vedere Cioè, ma è qua in sottofondo che mi sente Benvenuti, bentornate, buon anno, se qualcuno si è perso la live del lunedì, quindi buon anno Oggi torniamo e iniziamo a buttarti già a capofitto, a piene mani, proprio un bel tuffo gerpicioso All'interno di Favula Chronicles, questo perché dalla prossima settimana inizierevo a fare la creazione condivisa del mondo E oggi, visto che stiamo scrivendo l'avventura, il menabo dell'avventura di Playtest Faremo delle domande con voi, vedere un attimino che cosa vorreste trovarvi come domande Perché adesso vedremo lo schema di come è fatto, lo scriviamo proprio assieme E in base a quello andiamo a tarare poi il materiale da Playtest che io farò giocare anche questo weekend E farò giocare anche venerdì un botto Quindi se qualcuno vuol partecipare poi aprirò i vari tavoli Ma bando alle ciance, introduciamo subito Emanuele Galletto Ciao Emanuele Galletto Vabbè anche la musichetta Oh grazie, grazie Trecaldi per il sub, grazie mille, grazie infinite Ciao a tutti, ciao e auguri, buon anno Anche se li ho già fatti su altri lidi, però buon anno Anche a Ottone, oh sì, grazie Grazie, buon anno anche a tutta la chat Sì, buon anno a tutti, è vero ragazzi, buon anno ragazzi e ragazze Spero che abbiate passato un bel capodanno, spero che abbiate ruolato durissimo Ottone, c'è sotto la pancia le tue cuffie, le mie cuffie Quindi aspetta un secondo che devo passare sotto la tua pancia Non fare rumori strani, ti prego, ti supplico, ti scongiuro Grazie Eccoci qua, allora, allora, Emma se neanche tu oggi sai di cosa parliamo In realtà lo sai, ma mi hai detto, Nico fai tu perché è il senso convinto Sì, perché io non ci capisco una fava detta alla francese Emma è bravo a scrivere i giochi, ma non nel gioco organizzato Allora, innanzitutto, aspetta che vado già Oh sì sì, bacio bacio, bacio bacio, sì sì sì, bacio sì Ok, quando ho sentito quel rumore ho pensato fosse altro No, allora, premetto, disclaimer, se sentite rumori molesti che hanno un suono tipo questo Sappiate che non è colpa di Nicola De Gobbis, ma di Ottone Forse di Emanuele Galletto, non posso testimoniare per lui Quindi c'è, lo dico già Se invece mi vedete svenire è sicuramente colpa di Ottone Vero Ottone, che farei puzzettone Allora Un tottone Aspetta che vado già qua Fufufufu, vado nella pagina proprio l'avventura Allora, lo schema dell'avventura Oggi, quello con cui voglio fare con tutti quanti voi e anche con Ema È quello che vedete, lo scenario con location e relative domande per sviluppo avventura Fondamentalmente quella parte lì E anche Ema, ne approfitterei per PG mostri necessari al capitolo Perché io so che cosa ci serve Cinque sei cose qua serviranno due diavoli slash demoni slash creature oscure Fare due mostri sia prendendoli dal manuale e reskinnarli Sia fare un piccolo champion, non so, qualcosa del genere Un campione Ti senti carico Ema? Ti senti carico? Sì, sì, ho solo appena dovuto moderare una situazione sul mio Discord Infatti ho visto che l'ha fatta Finissero estremamente carico Ecco, bene, bene, bene Parlando di demoni Bene, 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 Ema Allora Innanzitutto, apro il file della morte Aspetta, apro il Ho fatto un semplicissimo Google Drive con brainstorming Perché quello lo voglio fare con la Con la Con la community esattamente questa Grazie a GGM per il sub, grazie Mi sono perso che cos'è Favula Chronicles Beh, allora giusto Allora, torniamo all'inizio Mi sembra giusto perché magari non tutti sanno Non è vero il comunicato stampa Il comunicato stampa uscirà quando tutto è pronto Quindi c'è, è solo perfetto E Favula Chronicles è il gioco organizzato di Favula Ultima In cosa consiste? Vi leggo la prima slide che è chiarissima È il gioco organizzato di Favula Ultima Che può essere giocato ovunque A casa con il proprio gruppo Nell'associazione, sul Discord di Need Game Nella sessione ufficiale del gioco Organizzato di Favula Ultima Sì, autore, sì, autore Favula Ultima Favula Chronicles è organizzato in stagioni di gioco Ogni stagione ha un setting dedicato Creato dai giocatori stessi Nei mesi precedenti alla partenza In questo caso qua Noi parleremo per quest'anno Per la prima metà dell'anno Faremo la stagione 0 Che sarà una stagione anche di assestamento Per capire cosa funziona Come cosa non funziona Che cosa andrà a cambiare Chi è a vezzo all'Adventure Wrestling Sa che è una cosa che viene fatta ad uso comune Perché in ogni stagione Si tara un attimino il tiro Per le stagioni successive Le stagioni avranno una durata Che va da settembre a giugno Per farvi capire Quest'anno invece la stagione 0 Avranno una durata Che andrà da febbraio a giugno Le stagioni sono suddivise in capitoli Sono sessioni di gioco autoconclusive E se registrano lo sviluppo narrativo generale E come lo sto accrezzando Ottone Si che lo sto accrezzando Io ho qua le mani qua sotto Vedete le mani sono qua Perché sono qua Non posso metterlo qua Vedi Ci faccio qua Lui dà fastidio Spostami la testa Vedete non so poco Allora Salsiccione gigante Scusate Dobbiamo andare qua Il setting Le sessioni che faremo La prossima Scusatemi Le live Di un mercoledì da fabula Sarà un mercoledì Da fabula chronicles Un mercoledì cronico di fabula Bellissimo mi piace Un mal di testa cronico Che già più Ottone è riuscito A abbassarmi il volume Delle cuffie Prova a parlarmi Ema La 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 Ok adesso ti sento Saranno 5 Saranno l'introduzione Quindi dove spiegheremo Un attimino Come è fatto il mondo Che cosa Come la forma del mondo Come andarla a creare Cosa vorremmo di fare Soprattutto Cosa Come Cosa vorremmo andare In serie All'interno del mondo Regne in azione Ovvero come sarà suddiviso Il nostro mondo Che saranno anche le fazioni Che andranno a creare Il nostro mondo Gli eventi storici Ovvero il passato Del nostro mondo Enigmi e misteri E minacce Le saranno composte Composte così Quello invece che faremo Oggi assieme Sarà un pochettino Lo schema Dei singoli capitoli In questo caso qua Faremo il capitolo 1 Oscuri risvegli Noi abbiamo già Ovviamente una struttura Narrativa Di quello che vogliamo Che sia l'arco narrativo Circa meno quasi Non abbiamo idea di Chi sarà il nemico finale Chi sarà Dove sarà il mondo E via dicendo Ma questa è una Delle particolarità Di Fabula Chronicle È stata la sfida Vera e propria Ovvero Come far sì Che le persone Si divertano Giocando a Fabula Con la sua Anima ibrida Chiamiamola così Da gioco narrativo Freeform Per ciò che riguarda Il grosso intervento Narrativo Che possono avere i giocatori E la sua parte Più cranciosa Dei combattimenti Tipica dei JRPG Abbiamo trovato Il fatto che Noi daremo Un Una parte Scritta Che sarà L'introduzione Da leggere I giocatori E la parte Conclusiva Che saranno La scena del GM Fondamentalmente Poi durante il corso Della partita I giocatori Il GM può inserire Quello che vuole E poi ci sarà Delle domande Che i giocatori Che il master Dovrà fare I giocatori Alla quale Dovrà rispondere Con loro E degli eventi All'interno Della sessione Che dovranno decidere I giocatori Che cosa fare In questo caso Ottone ti metto giù Perché ti vedo Che mi stai mangiando Qualsiasi cosa E non voglio Ciao amore È stato bello Vai giù Piano 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 Oh la la Ecco fatto Scusatemi Ehm In questo caso qua La prima sessione Questo oscuri risvegli Che abbiamo chiamato Sarà Il kick off Della campagna Prima di tutto Ci sarà Una multitavolo Dove ci saranno Gli eventi Che danno dopo Il kick off A tutto quanto Ma La prima La prima sessione Sarà una sessione Dove vedremo assieme Come potremo Andarla ambientare Ovunque Quindi con voi Vorrei fare anche Questo break Con voi E con Ema Che è l'autore Quindi anche Ha più una sensibilità Lo ho voluto coinvolgere Per quello E mi fa piacere Che non abbia Che non sappia Come andrà No ma è vero Ema è utile C'è nel senso Lo sai anche tu È un po' un blind test Perché ad esempio Io per parte mia Posso evidenziare Quelli che sono punti Che magari Vanno a stridere Con la struttura E possono essere Più critici Per dire Esatto Ma perché anche Ema come ben sai La scenario Con location Relative domande Per lo sviluppo avventura Quelle che noi Pensiamo di utilizzare Sono quelle Diciamo Estrapolate Dal Dal menabo Da te fatto Per l'Atlante Quindi vedremo anche Tra virgolette Mirage Come è costruito Mirage E quelle lì Voglio che siano Le domande Cioè là in realtà Sono l'intro Dei capitoli L'intro delle sezioni Invece Nelle avventure Voglio che siano Nel Almeno Per questa avventura Perché poi Considerate che ci sarà Un team di scrittura Il team di scrittura Sarà composto Da Dal direttivo Del salotto di Giano E da altri membri Amici di Autori Amici di Need Games E membri Diciamo di spicco Chiamiamoli così Nell'ambito Liginiere italiano Perché vogliamo proprio Che sia un gioco Fatto Da Da tutti Cioè Man mano Poi che andrà avanti Con le stagioni Nulla vieta che ci sarà Di per te a virgolette Una scrittura pubblica Tipo Scrittura per modo di dire Considerate che questo documento Sarà di 3-4 pagine Compensa la copertina E quindi una cosa Molto piccola Fatto tutto a scheme Quindi ci sarà molto spazio Vi saranno domande Dove inserire le risposte E le Diciamo Le Stat block Dei nemici E degli NPC Quindi una cosa Di Di testo Vere e proprio C'è la classica avventura Di gioco di ruolo Che c'era a studiare Scordatevela Cioè qua Fabula È Un gioco composto Da Dalla creatività Dei giocatori Ci sarà sempre L'esempio di sviluppo Ovvero Come noi Di Need Games Quando facciamo il playtest È venuta fuori La nostra avventura Quindi non ci saranno Le domande E poi alla fine Ci sarà la nostra avventura Quindi la descrizione Del luogo E tutto quanto Che se qualcuno Ha le chiappe pesanti E non ha tempo Può utilizzarla Cosa che noi Sconsigliamo totalmente Però Magari una Le prime armi Mi piace molto Il fantasy Esatto Noi lo metteremo sempre Quindi volendo Uno alla fine Avrà dieci avventure E avrà dieci sessioni Scritte Tipo dieci Passatemi il termine Premi start No? Fondamentalmente Quindi Sì Più canovacci Molto più canovacci Però Sarà fatto così Grazie ad Albe Per averle regalato Un sub A Candeggina Lamenta Grazie mille Ora che li hai citati Quando è l'uscita Degli Atlanti E dello schermo Lo schermo Q1 E l'Atlante Q3 Q4 Quindi c'è Il senso molto Ma una cosa Che abbiamo detto Molto Molte volte Scusatemi Speravo Non sapeste Allora Iniziamo Vado un secondo Sul Sul drive Allora Mi è uscito Ottone Ha fatto fuori Questo Con un morso Marco Scusami Si cazzerà Allora Come abbiamo detto Tra parentesi A me dispiace Perché Avrete forse Un po' di spoiler Di quello che suggerrà Nella prima avventura Però Ormai Chi Chi ci segue Sa che È tutto Tranne che Spoiler free Queste live Lo sanno Palesemente L'avventura inizia Questa avventura Qua Mille anni Dopo Il grande Sacrificio Ovvero Quando Un manipolo Di eroi È riuscito A sconfiggere Il Chiamiamolo Re dei demoni In realtà È il nemico Il villain Che decideremo Assieme Durante la creazione Condivisa Ma per noi Sarà Il malvai Il cattivo Il cattivo supremo Chiamiamolo così E ogni anno Da mille anni Si festeggia Il giorno Del sacrificio Ovvero Si Si rievoca La battaglia Fatta contro Questo re dei cattivi E ogni paese Di tutto il regno Di Il regno Di fabula Chronicle Non c'è il nome Festeggia A modo suo In questa avventura Le domande Saranno relative Le domande Che il master Farà ai giocatori E con il quale Ricordatevi Il master è un giocatore Quindi è giusto Che dica anche il suo La sua impressione Quindi se fa una domanda Ascolta i giocatori Ma può dire anche lui La risposta Può metterci del suo Anzi non può Deve Correggimi E se dico Boiate Ema per cortesia Vi ricordate questo qua Quindi è Visto che non mi invitante Il giorno del sacrificio Non è Che è un caso Nadia Visto che si chiama Oscuri risvegli Cioè il sacrificio Ti fa capire Che forse mille anni fa È successo un macello Forse Allora Quindi le domande Senti Senti per questa connotazione Negativa del sacrificio In realtà Cioè fanno il sacrificio Per fare una cosa molto figa Però Io ti ricordo Che l'unico sacrificio Rilevante ormai È quello di Mirko Rolla Nella campagna Del rosso Sì che è la campagna Basata su di lui E lui si sacrifica E lui si sacrifica La terza sezione Quello è stato Quello è stato proprio C'è il genio C'è una campagna Basata sull'eletto E l'eletto si sacrifica E quindi si scopre Che in realtà Quello era solo il prologo Time skip Esatto Esatto Allora La location La festa Per la location Adesso vi faremo vedere Un po' di preview Belle succose Perché vi facciamo vedere Mirage L'immagine è totalmente A scopo descrittivo L'immagine è molto Hai ancora Hai ancora Quell'immagine Che non c'entrava nulla Esatto No perché Volevo mettere Una delle immagini Fatte da Tu sai chi Però ho detto No Cioè no Va bene lo spoiler Ma non così spoiler Cioè non mi sembrava Non mi sembrava corretto Tra l'altro Facciamo Scusa Vado solo a cercarmi Il nome dell'artista Perché facciamo il crediting Anzi Giro anche su Twitter Cerca artista economico Lei No Cerca artista molto economico Che abbiamo dovuto supplicare Per farsi pagare Non è andata così Ma magari Allora Mirage Sarà una delle location Ufficiali Dell'Atlante di Fabula Quindi Un'illusione nel bel mezzo Nel deserto Così appare Mirage A chi la vede Per la prima volta Avvicinandosi Si notano meglio I profili di abitazioni E palazzi scavati Nella solida pietra rossa Sormontati Da un'altra torre Modellata dalla roccia Le costruzioni Sono lambite Da una sorgente Così cristallina Da riflettere Come uno specchio Il cielo notturno E le sue stelle Mirage Non c'entra assolutamente Nulla Con Fabula Chronicle Però mi piaceva leggere Questa cosa qua Quello che dovete vedere voi È Mirage In breve Elementi tipici Posizioni Nei piani dei cattini Allora Parola chiave Community Dove Volete ambientare Dateni un po' Di info Su dove potremo Ambientare Questa one shot Sarà esattamente Quello che dovete fare voi Durante la sessione Quindi voi vi sedete Intorno al tavolo La prima Domanda Che deve essere fatta È Dove Ambientiamo Questa one shot Eh scusatemi Questa Questa avventura Voi considerate Che avrete già I regni O le nazioni Che compongono L'universo Della season zero Di Fabula Chronicle Quindi voi dovrete Scegliere All'interno Di dove siete Ciò premetto Che se c'è un mare Potete anche dire All'interno del mare E vi inventate Un villaggio subacqueo Perché in contemporanea In tutto il mondo Quando giocheranno Questa avventura qua Ci sarà Chi Mi inventerò dei nomi Chi l'ambienta Nel regno Delle Ocanzia All'interno Di un villaggio Chi lo sta giocando Magari Nel Chi lo sta C'è la festa All'interno Delle montagne Dei nani Chi Nei palazzi volanti Degli elfi Chi sott'acqua In tutto l'universo In tutto il mondo Conosciuto Di Leocanzia L'ho chiamato Leocanzia al mondo Ma possiamo chiamarlo Con nulla Grazie Reist Per il sub Grazie mille Si festeggia questa festa Quindi è normale Che ci siano Festeggiamenti diversi Perché c'è Nei nani Magari ci sarà birra E ci saranno Tornei di braccio di ferro Per la forza Sto inventando sempre Negli alti elfi Ci sarà magari Una rievocazione Con dei canti Particolarmente belli Che rievocano la natura E sulla forza Di come I buoni Hanno prevalso Sui cattivi Sott'acqua Magari ci sarà Un gruppo di marini Che festeggia Andando a caccia Di uno Di uno scuolo tigre Non lo so Queste qua saranno Le risposte La cosa importante È che si festeggi Quindi è bello Che ognuno ha le tradizioni C'è il menù di Natale Che mangiamo in Italia È diverso da quello francese È diverso da quello americano E via dicendo Però tutti quanti Festeggiamo il Natale Questo è per farvi capire Un attimino Il significato Quindi Per prima cosa La domanda da fare è Dove Ambientiamo Questa Avventura Prima domanda Ottone Ottone ti prego Stai esplodendo Tutto Sì 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 Andavano via ragazzi C'è Mamma mia Una volta scelto Allora vedi qua Dico Villaggio Arborio Facciamo una bella festa naturale Con danza E riti druidici Villaggi nevate I piedi di una montagna Ricoperte di foresta Di alberi rossi È esattamente così Che dovete rispondere È perfetto Piccolo villaggio Vicino a qualche luogo Importante per l'ambientazione Non ci sono luoghi Importanti adesso Per l'ambientazione Voi perché sapremo Quali sono Le città Sapremo quali sono Se ci sarà una capitale Imperiale O qualcosa del genere Sapremo se ci sono stati Gli eventi storici Ma qua dovete metterci Voi del vostro Perché è bello Che create voi il mondo Dentro il castello Di un regnante Assolutamente sì Bellissimo Una piccola città Con le gambe Perché no Marco Bosnia Cioè potete scegliere Voi quello che volete È un mondo È un mondo vasto Quindi ci saranno Tantissime porte Cosa non ci sarà Il pronto Il problema Scusatemi Il grande La grande sfida Che abbiamo dovuto Affrontare noi È stato Sì ma com'è che Facciamo in modo Che i punti fabula Vadano a Non sovrapporsi A la lore scritta Cioè nel senso A la traccia narrativa Molto semplicemente Abbiamo fatto sì Che una cosa Che in realtà C'è già La regola Scritta nel manuale Ovvero Io non posso usare Il punto fabula Per andare a Sovrascrivere Idee avute Da altri giocatori Semplicemente All'interno di Fabula Chronicle Ci saranno Dei personaggi Non giocanti Principali Cioè nel senso Fissi E delle location Fisse Che saranno Quello che Siamo andati a fare In fase di creazione Condivisa Quindi ci sarà La capitale imperiale Dove c'è il palazzo Della principessa Di smeraldo Ci sarà La principessa Di smeraldo Ci sarà il re Bruaddar E via dicendo Io non potrò andare a dire Spendo un punto fabula Perché in realtà La principessa di smeraldo È mia sorella Non No Cioè non andremo a usare Punti fabula Per andare a creare Legami Con png fissi Già esistenti O modificare Location esistenti Ovvero In realtà Mio nonno Era il capo Della gilda Dei costruttori Dei nani E ha costruito Un dungeon segreto Sotto il palazzo Da principessa di smeraldo Questo non andremo a farlo Ma che cosa potremmo fare? Potremmo fare assolutamente Il fatto che Mio padre Mi ha detto Che ha costruito Dei cunicoli E ha ritrovato Una mappa Del All'interno di un cunicolo La mappa Del palazzo di smeraldo Questo qua si Cioè è un palazzo già esistente Quindi la mappa Quindi che vi può facilitare Ed entrare O cose del genere Ma non per andare Non so A distruggere fondamenta Per farlo crollare Cose così Guardando adesso Il Quindi All'interno Vede il villaggio Potete usare punti fabula Per dire che Io Ho Un mio vecchio Compagno avventuriero Che si è insediato In questo villaggio E ha aperto una panetteria Assolutamente si Volentierissimo In poche parole È come quando giocate A Final Fantasy 14 Anche se nella storia Va a fuoco Un villaggio Non andrà mai davvero A fuoco Perché i modelli Non possono essere cambiati Perché ci sono altre persone Nel multiplayer Che hanno bisogno Di poter entrare In quel villaggio A dire la verità A dire la verità No Perché se tu Ti sei inventato Il nome del villaggio Perché tu puoi dire Ah beh Se il villaggio È un insediamento No No Il villaggio È un insediamento Vosso separato A meno che Tu non decida Di giocarlo Siamo nella città imperiale Allora lì No Io parlavo proprio Di queste cose intoccabili No Funzionano esattamente Come gli asset condivisi O i boss condivisi In un MMO Esatto E infatti tra l'altro Il paragonio che io faccio spesso Quando la gente mi chiede Ma che cos'è Fabula Chronicles Rispetto a Fabula Ultima Cioè è la differenza Tra un Final Fantasy 14 Che si è Final Fantasy Ma è anche un MMO E invece Il Final Fantasy Single Player Offline Che tu ti giochi Dove ti fai un po' Quello che vuoi Esatto Poi allora La tematica C'è già Cioè noi sapremo già La tematica La tematica Non vi diamo Spolare tutto Quello non è una cosa Quindi una volta deciso È Quindi dove ambientiamo Questa avventura Quindi regno Fazione Tipologia di insediamento Villaggio Deserto Foresta Città Una volta che siamo andati A crearla Dobbiamo fare domande Due Come è fatto Il nostro Villaggio Città Insediamento Città Location Quindi come dicevate voi No? Esempio Esempio Villaggio Nella foresta Insediamento Montano Oh porca miseria Nico Tra l'altro Il tuo audio Mi è sceso E poi risalito Adesso mi senti bene? Sì Perfetto Sì Anche se ti mozzava Un po' Inizio delle parole Sì perché ho Il gain Il gain è molto alto Ora basta Sarà quello Adesso Dovreste sentirmi Molto meglio Senza problemi Ecco Ho fatto Come e perché Viene fatto Questo sacrificio No Allora Andy Windlord Non c'è un sacrificio Cioè è la festa Del senso È per rievocare Per festeggiare Quello che è successo È un po' Come la festa Del Natale Cioè Lasciamo La festa Della La festa Degli eroi Ok chiamiamola così Cioè nel senso Lascia sta la parola Sacrificio La festa degli eroi Questo è il vero spirito Da Final Fantasy 14 Esatto Come La storia Allora Ditemi voi Ditemi voi Insediamento montano Villaggio nella foresta Cos'è che avevate anche detto Tirate in fuori le varie idee Così mettiamo gli esempi dentro C'era anche quella del Tipo un villaggio nel deserto Dentro il carapaceo Di un grande mostro Bellissimo Io metterei anche Tua cosa totalmente adesso Città volante Ah città volante Su aeronavi Quindi tipo Cos'è che Gravity Rush Che c'è Tutta la città volante Costruita sui pontini Di aeronavi Villaggio nascosto Nelle profondità Metto acquatiche Perché non sappiamo Se c'è mare O cosa del genere Che sia mare Lago Quello che volete Comunque abbiamo Come già Come potete vedere Ci sono già Tantissime Abbiamo già messo Villaggio nella foresta Baldo Cioè che sia Pietrificato o no Cioè sono sempre alberi Quindi come potete vedere Già qua ci sono Uno, due, tre, quattro, cinque, sei Sei diverse Location Quindi già sei gruppi diversi Che giocano Qual è la tematica Di questo Di questo scenario È investigazione Investigativo Oh beh Questo sarà divertente Perché La macro trama È semplicemente Durante La La festa Infatti le altre domande Poi sono Adesso ci saranno Chi sono i png principali E via dicendo Succede qualcosa Si va a capire Che cosa sta succedendo Appaiono Dei demoni Che possono essere Demoni acquatici Persone che sono state Possedute Qualsiasi cosa E fa capire Che c'è un risveglio Di qualcosa Cioè da qua È da un sacco di tempo Che sta andando Sta andando molto bene Quindi c'è a parte Diciamo gli avventurieri Che vanno in giro No io parlo del Comunque io parlavo del tema Cioè nel senso Di cosa parla la storia Parla di Perché a livello Di location No sarebbe utile Che la location Riflettesse Tipo se è un luogo nascosto Allora si parla di segreti Se è un luogo di Ah no scusami La tematica della location Tema portante Tema portante Tema portante Dalla location lo scelgono i giocatori Della location No io parlavo Dello scenario Il tema portante Dello scenario È investigativo La tematica è Quella è la tipologia La tematica è Ci sono I cazzo Di demoni oscuri Che arrivano A aprire la faccia A tutti quanti E affrontare le paure Se questo qua vuoi come tema Affrontare la paura Anzi Ok quindi l'elemento Della festa Della festa storica È solo di sottofondo Sì è solo per creare Interazione Con i personaggi Candeggina Vabbè è stato il giardiniere Ma siamo nel deserto Appunto Lo ha fatto per noia La tematica è Morte e distruzione Infatti il resto Tra parentesi Visto che dico sempre Morte e distruzione C'è un manuale Bellissimo Di Soulbound Che si chiamerà Morte e distruzione Quindi c'è nel senso Caos Morte e distruzione Bellissimo Meraviglioso Felicissimo Allora Insegnamento Montano Villaggio Nella foresta Villaggio Allora Ehm Tre Ehm Chi sono I PNG No anzi No i PNG No perché Ci sono Ci saranno Sempre Dei PNG Principali E voi potete Dopo andare A inserire Quello Quello che volete Allora Tre Scusatemi Abbiamo detto Come è fatto L'abbiamo detto Come è fatto Come è fatto Il nostro insegnamento Poi Gli elementi tipici Quali sono Gli elementi tipici Del villaggio E Come Ehm Da chi è composta E Da Chi È Composta La Popolazione Va da sé Che Se Magari Gente C'erano Gente del deserto Magari Avranno un determinato tipo di commercio Un determinato tipo di economia Piuttosto che Oppure Quelli che sono Sott'acqua Avranno Saranno magari Dei marini Di isola ambientata All'interno di una grotta Nani Che ci saranno dei nani O negli Cioè Perché Ci sono questi determinati tipi Di popolazione E Ehm I tipi La loro La loro vita La loro vita Diciamo quotidiana Cioè Qual è La La quotidianità All'interno di questo insediamento La Quotidianità Eh beh Questo chiaramente dipende molto Dalla natura Della risposta Alla domanda prima Però anche adesso Provate a dirmi Chi ha detto le varie cose Perché qua faccio sempre degli esempi No Ad esempio Insediamento montano Cioè Chi ci può essere? Ricordatevi che è fabola ultia E quindi se mi dice Un popolo di Kitsune Delle nevi Andrebbe da Dio Oppure degli Yeti senzienti O dei Non ditemi i Pampuni I Pampuni non ci sono No i Pampuni Sì non ci sono I Nopon Scusatemi I Nopon non ci sono Il villaggio di Yeti E tanta roba Eh visto Cioè Tutti i fuffolosi Giganti Esatto Però che parlano tutti Così estremamente colti Sì no esatto Ovviamente Sono intellettuali Un attributo di umanoidi Con delle braccia lunghissime Sì facile Come si chiamano però? Ma a parte il fatto Che comunque questa cosa È già horror Sono citato l'altro Ci sono i meccanici Uomini corvo Ah che meraviglia ragazzi Un maglione di una capra Di metallo Lana Merlinox Eh Per favore chiedete subito Di bannare Dottor Klebbits Per cortesia Perché c'è qua Nel senso Non è che manca qualcuno Che fa battute L'Anna Merlinox Mi fa molto ridere Però Il villaggio acquatico Abitato da Merfolk Ed è famoso Per la produzione Di cristalli marini Un gruppo di strano E saltimbanchi L'Alafell e Schimesi No Ha detto il nome Dei patata Emanuele Ha nominato I patata Schifosi Maledetti I L'Alafell Ah Ma che problemi Hai con i L'Alafell Dai Sì sono Sono un po' Dei rotolini Ecco Delle pallette Uomini Un certo Con la pelle di pietra Un villaggio Io sono ancora Io sono ancora Io sono ancora Io sono ancora Esempio La mettiamo un po' Mettiamo un po' Sono ancora Fissato sugli Ieti intellettuali Perché mi hai fatto Venire in mente Che se è un villaggio Di montagna Che custodisce Anche grandi conoscenze E gli Ieti Cosa fanno Non mi castano lì E si grattano Leggono Infatti c'è La grande Biblioteca di ghiaccio Bellissimo C'è C'è Ma no che bello C'è Voglio giocarla Poi Uomini Lucertola Uomini Lucertola Con la pelle di pietra L'Arafel Tank Sì per favore Nadia C'è È bellissimo Perché è proprio Cioè è una pentola L'Arafel Tank Un barile A proposito di pentole Ci saranno degli aggiornamenti Sul gourmet Tra cui l'abilità Pentola magica Che verrà modificata In grossa pentola Che ha un effetto diverso The more you know Senta parentesi Andate a vedere Come è cambiato il pilota Che Ancora deve Assessarsi Non fate il pilota No no Fate Tranquillo Il pilota ha perso I trasporti grandi Perché si pestava i piedi Con Il ruolo che hanno I trasporti grandi Nei grpg E cioè non di stare Nei conflitti Ma di essere Elementi di spostamento Su mappa Allora scusatemi Però queste qua Sono quattro domande diverse Scusa sto pensando Sono quattro? Sì Giusto Cioè forse Popolazione Elementi tipici Possono essere la tre Ma la quotidianità No io preferisco Perché deve essere Abbastanza veloci Come domande Ad esempio Quali sono gli elementi tipi Del villaggio Abbiamo detto Anzi ho detto Però mi piace molto Per gli lieti La grande Libreria Di ghiaccio Di biblioteca Di ghiaccio Cioè ad esempio Qua Ci devono essere Dei diavoli E c'è un ambiente Magari molto colto Magari la festa Sarà molto colta Quindi non so Una gara di poesie Per Per rievocare Gli eroi La scrittura Di un brano Qualcosa del genere Ma soprattutto E dopo anche bello Che magari Questi demoni Escono Dalla sezione oscura Della biblioteca O cose del genere Per farvi capire Quante Cioè la cosa bella Che abbiamo Stiamo cercando di fare È anche la Rigiocabilità Perché anche se Io l'ho giocata E so che c'è Un scire dei demoni Se dopo vado a giocarla Sott'acqua La gioco con gli ieti La gioco nel deserto Gioco oggettivamente Delle sessioni Diverse Perché anche io Andrò a creare cose diverse L'unico impedimento È che una volta Che sei giocata Un'avventura Bisogna cambiare personaggio Cioè non posso giocare La stessa avventura Con lo stesso personaggio Perché Potrebbe essere interessante Riguardo ad esempio Ai demoni Consigliare di Fare il foreshadowing Dei demoni Con una scena del GM Sai no? La classica cosa Che l'inquadratura Si sposta E si vede Il portale che si apre Oppure la mano artigliata Assolutamente Però la cosa importante È Quello che Il GM Infatti ci sarà scritto Alla fine Ci sono le note per il GM Dove ci sarà scritto Lo paravano Solo la The Gobbies Voi potete fare Quel cazzo che volete Però dovete Ficarci dentro Questo combattimento qua Quindi due demoni E un campione Scegliete voi Come farlo inserire dentro Cioè Se sono degli spiriti maligni Che escono dei libri Se sono Una Delle persone Che vengono possedute Se sono proprio Si apre un portale I demoni escono E dovete farlo Quindi la natura Dei demoni È libera Proprio rispetto Sì 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 Io ti metto Le stat Che devono essere Non so Immuni Ai danni ombra E Vulnerabili alla luce Però la descrizione La fai tu La fai totalmente tu La descrizione Con Una serie del GM Quindi poi Tu come colleghi Alla macro trama Cioè nel senso Immagino che questi demoni Siano colleghi Cioè siano un elemento Di un qualche cosa Adesso vedremo Che avventure fanno Noi scriveremo Proprio da collegare Che avventure In base alle risposte Che ti daranno Su Le location Sugli eventi da fare Collegati i demoni Ad esempio qua Io faccio sì Perché c'è questa Alla fine L'avventura ci concluderà Con Si vedrà Una parte Di una creatura Molto malvagia Del cattivo E Una schiera infinita Di Ok quindi tu gli dici Noi dobbiamo comunque Arrivare a far vedere Questa cosa qui Esatto Come però È a scelta tua È a scelta totalmente tua Ok Perché Ad esempio La cosa bella è che tu dopo Io la gioco Io gioco quella degli Yeti Tu giochi quella nel deserto Zake gioca quella Negli alberi di pietra Ci ritroviamo noi tre Seduti al tavolo Alla sessione dopo Al capitolo 2 Mentre presenti il tuo personaggio Dici Io la Vengo dal villaggio Ah ok Quindi questi eventi Sono canonici Per ciascuno di noi Perché questi posti Ci sono nel mondo Esatto Esatto E noi Ah Perché il mondo intero Cioè se tu mi dici Io vengo da Talmassons Che è un paesino vicino a Udine Tu non hai idea Dove sia Talmassons Sì sì Esiste davvero Cioè non posso avere La conoscenza totale del mondo Quindi poi Le storyline in realtà Cioè ogni capitolo Sarà indipendente Ma ciò che avviene È chiaro Comunque ha poi Ha poi un legacy Cioè questo qua Appunto è l'oscurità E sarà una trama Molto semplice L'oscurità che si sta risvegliando Classica Cioè una cosa che vogliamo fare Comunque è far giocare Avventure che siano Dei cliché Dei JRPG Questa qua è proprio La classica E potrebbe essere Un Dragon Quest 3 Per dirti Cioè classica O anche l'ultimo Dragon Quest Cioè l'ultimo Dragon Si è legato su eletto C'è un'oscurità Che si sta risvegliando Dopo mille anni Se noi ci sediamo al tavolo E ti dico Oh Io vengo Ho festeggiato Il giorno della festa Degli eroi Nel villaggio Degli Yeti A nord A un certo punto Dalla libreria Sono apparsi Dai libri Dalla sezione occulta E oscura Sono comparsi Dei demoni Che ci hanno attaccato Degli spiriti maglini Che ci hanno attaccato Tu magari Che eri nel villaggio Dell'Izzalfol Dici Oh noi stavamo facendo Un rito sciamanico E dal sacro fuoto Degli sciamani Lucertola Si sono liberati Dei demoni Manigli delle fiamme Lo stesso giorno Quindi diciamo che Se tu arrivi alla fine Di tutte queste cose Avrai incontrato Un sacco di gente Con un sacco di posti Esattamente Esattamente questo Esattamente Oh c'è un ride Di Mario del Pennino Oh grazie Mario Grazie mille Per il ride Ragazzi Stiamo scrivendo Assieme Stiamo facendo Un brainstorming Sulla campagna Sulla prima avventura Di Fabula Chronicles Oscuri risvegli Ovvero Sul gioco di ruolo Organizzato Sul gioco organizzato Del gioco di ruolo Fabula Ultima Di cui Emanuele Galletto La persona sotto di me Nè l'autore E noi Siamo gli editori Quindi stiamo scrivendo Se faccio così Lo punzecchio Così vedi Esce il tuo lito Da sotto Ehi Emanuele cosa stai facendo Comunque Torniamo a noi Che di roba Ce n'è Il tempo Già l'una e mezza Io ti faccio La domanda antipatica Dimmi certo Come gestisci Visto che parli Di investigazioni E misteri Come gestisci Il sapiente Ah no Ci sono Guarda Guarda come gestisco Il sapiente Emanuele Galletto Guarda come gestisco Il sapiente Adesso prende Il manuale di Fabula Ultima E strappa La pagina Guarda 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 I personaggi Verranno creati Ogni stagione Potrà avere Delle modifiche Specifiche Come ad esempio Per alcuni classi Qua ho fatto solo Arcanista artefice Chimerista Ma in base Appunto Prima di rendere pubblica L'avventura Faremo anche dei playtest Per capire esattamente questo In realtà È investigativa Passami il termine Per modo di dire Per modo di dire Esatto Perché quello che Devono capire i personaggi È Cosa sta succedendo Perché durante gli eventi Qualcosa dovrà andare storto E lo diremo al GM Durante gli eventi Fai andare storto qualcosa Ad esempio La cuoca Me la sto inventando Di sana pianta La cuoca del villaggio Nota per essere Una grandissima cuoca Sbaglia tutti C'è La torta è salata Invece che essere dolce Il pesce è rancido Cioè Come mai? Allora Se si va a intervistare Si va a parlare con la cuoca Si vede che è uno stato Un pochettino confusionale Come se Qualcosa di oscuro Magari fa delle ricette magiche Qualcosa sta nebbiando La sua mente Mettere degli elementi Che ci siano Che far capire Che c'è qualcosa che non va Il sapiente Ad esempio Dice Uso un punto favola Perché in realtà La cuoca Quello dicevamo prima È una vecchia compagna Di avventure Quindi si fide di me E mi dice delle cose Che per me Non hanno totalmente senso Quindi capisco che c'è qualcosa Che c'è qualcosa che non va E via dicendo Tutto deve portare A un punto focale Noi diciamo che Deve essere veramente Low prep Per il master Questa avventura Cioè Che tutti Io stavo pensando A una domanda Del tipo La prima volta che vedo Una traccia del demone E la esamino Che cosa ha lasciato Questa traccia E beh è bellissimo Questa cosa qua E la risposta Tu dici Tanto comunque In una scena Capiresti che si tratta Di un demone Se viene da un giocatore Tanto meglio Esatto Anzi c'è Io spero Che venga da un giocatore In senso È fatto proprio per questo È fatto perché La cosa bella Di fabola ultima È che a differenza Di altri giochi prescritti Direttamente prescritti C'è Il master qua Si mette così E deve solo Reagire Ai giocatori L'unica cosa che sa È perfetto Io so che Questa avventura qua Deve avere Due demoni E che alla fine La scena del GM È scritta Perché si vedrà Una parte del demone E Leggo l'inizio No perché E nel caso Nel caso ad esempio Tipo la domanda fosse Da dove vengono Questi demoni Cioè se fossero domande Che vanno avanti Nei capitoli No tu nel capitolo La storia Nel senso Perché io immagino Che quando gli arriva Il primo capitolo Non è che hanno Tutti gli altri No esatto Hanno solo il primo L'altra domanda Sarà Un Passami il termine Un divertimento Del master Della seconda sessione Perché Il master Della seconda sessione Io dirò Io ho trovato Questi demoni Tutti quanti Porteranno Avranno una scia Infatti i giocatori Avranno Ah ok Quindi tutti quanti Si dovranno portare dietro La risposta che è stata data No 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 La risposta che viene data È che ci sarà scritto Cioè Tipo il master Se chiedono Dove viene E fa È un forte potere oscuro Che non avete mai avuto modo Di vedere finora E che ha Delle tracce Del regno di Il regno di Il regno di Mettiamo L'avete letto Nel vostri studi Per il sapiente Nel regno di Ultima Che sapete Che è stato È scomparso Da mille anni Appunto Quando c'è stata La grande battaglia Contro il re dei cattivi Quindi Quindi Nello scenario Viene fornita Una serie di punti rapidi Di domande frequenti Che potrebbero Poter fare Domande che servono A unire il tutto Così appunto Ci ritroviamo tutti quanti Al tavolo Ci sono due sapienti E fa Io ho scoperto Che viene dal regno Era scritto Il regno di Ottonio Viene dal regno di Ottonio Anche le metrace Ma il regno di Ottonio Non dovrebbe più esistere Com'è possibile È stato ingoiato Dalla puzza Molti secoli fa Esattamente Esattamente così Perché Poi naturalmente Questo è Ma capisci Che se invece Si decide di giocare in casa Col proprio gruppo di gioco È capito Però Io ti do già la risposta Perché qua Sono solo alcune cose Che servono Ma che alla fine Serve su shell Ogni avventura Uno o due punti Come nel premistart Tu sai che A Desdemona Sono successe Quelle x cose Esatto Il resto Come ad esempio qua Allora arriviamo Scusatemi Ottonere dei demoni Assolutamente Esatto Quali sono Gli elementi tipici Del villaggio Abbiamo detto La grande biblioteca di ghiaccio Ditemi degli elementi tipi Ad esempio Nella città volante Sull'aeronavi Quelle potrebbe essere Prima parlavano Del cristallo centrale Che dà energia Alla città volante Cristallo centrale Che magari la festa Sarà intorno al cristallo C'è tutto quanto Intorno al cristallo Dove ci si mette Magari mano nella mano E si fa dei canti Madonna fa molto È un attimo Che va male Esatto Centrale Cristallo centrale Che dà energia Alla città volante Però è qua Visto da un sacco di cose Puoi fare una one shot In zero due C'è nel senso Sì probabilmente Metti assieme Tutte ste robe E hai una mappa Di fabbri Esatto Ognuno si fa La propria risposta Allora La puzza è l'indizione Del ritorno dei demoni Allora Addio sapiente Sarai sempre ricordato Allora Quali sono Nel villaggio Si pubblichano gioielli Che prego Timorizzare e rivedere Un sogno del possessore Questo qua Potrebbe essere Un punto fabbola Il fiore di pietra rosa Che dà i semi Per gli albi Pertificati Bellissimo Il grande fiore Sì prima parlavano Anche della città Quella dei tritoni Dove Dove tipo Commerciano in cristalli Potrebbero essere I gioielli Allora Quelli creati Con Una Una variante Particolarmente rara Di quei cristalli Scusa Cos'è che dicevano Città del deserto Parlavano del villaggio Dei Dei Merfolk Sì Villaggio Che avevano Che avevano Tipo dei Dei cristalli E Lo stavo collegando Adesso a Green Dorian Che parlava Dei gioielli Delle memorie Potrebbero essere Potrebbero essere Ma guarda Il mercato Dei cristalli marini Perché adesso Stavano degli elementi Tipici Poi all'interno Ci sarà la piazza principale Esatto La miniera Di cristalli Oppure potrebbero essere Coralli Esatto Dei cristalli Di corallo Dei coralli marini Guarda Coralli elementali Mamma Oh no Adesso mi è venuto in mente Un boss Corallo elementale Che cresce E si ramifica Ok Bello Il meletto Proibito Meletto Proibito Ed è subito Apre una volta L'anno Palazzo imperiale Con l'apertura Speciale Comunque ragazzi Ragazze Via dicendo C'è Avete visto C'è la mia scritta E' solo per farvi capire Però avete visto Con che velocità Ognuno al tavolo Dice cinque posti Secondo lui Che ci possa essere In questo villaggio Oltre banalmente A Ma potrebbe essere Facciamo Mega classicissimo Villaggio medievale High fantasy Ci sarà L'accademia Non so Ci sarà La sede Della gilda Dei maghi La piazza principale Il municipio Del borgomastro Il macello Cioè cose proprio Anche così Possono essere Se non avete Mega 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 invenzioni O cose del genere E' stato degli eroi Fatta con il sangue Di tutti i sopravvissuti In mille anni Da insegno e rispetto Per i campioni creduti E' la madonna Che schifo Una crosta gigantesca Green Dorian Però anche tu cos'è Una crostazza unica Comunque Avete capito Che cosa intendo Mamma mia Da chi è composta Popolazione Uomini corvo Meccanici Intellettuali Uomini Mi sono perso tutto Eccoli qua Uomini lucerto E via dicendo Ultima cosa Importante La quotidianità Qual è la quotidianità Dell'insediamento Ovvero E' un insediamento Rurale E' un Campagna E' un popolo E' un popolo Di minatori E' un villaggio Di studiosi E via dicendo Di cosa si occupa Qual è Diciamo La L'elemento tipico Del villaggio Dell'insediamento Che cosa fa Assaggia C'è il senso La risposta Che mi stai Dando tu Magari È stata Giada Anche prima C'è Esatto 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 Molto spesso Qui comincerete A vedere Ah questa cosa Ci abbiamo già risposto In realtà Ma è normale Anzi E' una buona cosa Vuol dire Che state ragionando Nella direzione giusta Qual è la quotidianità Secondo me E' una domanda Che potrebbe essere Migliorata Nel senso Che Potresti mettere Qual è La principale Caratteristica L'attività principale Del villaggio Dell'insediamento Tu ragioni Di attività Per me potrebbe Anche essere Una questione Culturale Cioè Qual è la caratteristica Principale Dell'insediamento Sì Il quirk Il tratto principale Qual è il tratto Il tratto distintivo Dell'insediamento Perfetto Bellissimo Il tratto distintivo Perché magari Il tratto distintivo È che Una comunità Invece È molto dedicata Alla meditazione E all'armonia Con i mostri Per dire Ma è esattamente Questo Questo brainstorming Cioè Per dopo Che c'è Allora Voi vedete Cinque domande Allora Se voi avete avuto Modo di fare Delle Delle sessioni Delle one shot Con me Con him C'era una Semi creazione Condivisa del mondo In questo caso qua Non ci sarà La creazione Condivisa del mondo Perché il mondo L'avremo già creato Assieme Tutta la community Se live Sia col forum C'è la creazione Condivisa Della location C'è la creazione Condivisa Però deve essere Una cosa veloce Cioè noi adesso Per scrivere le domande E per leggere Anche le vostre risposte Quando sei intorno a un tavolo Ognuno deve dire una cosa Ci si mette veramente Un quarto d'ora 20 minuti A fare tutto Sì anche perché Cioè non è che Ogni domanda Ognuno Dà una risposta Ogni domanda Si risponde Quindi tipo Cinque domande Cinque persone Via Cioè se decidete Di fare La Il villaggio Dei marini Di L'oggi che la popolazione Ci sarà Fatta principalmente Per i marini Che sono fatti Così e così e così Magari ognuno Li descrive a modo suo E in più però Ci sono anche Altre razze Persone di altre etnie Che magari O hanno dei respiratori Decidete voi Se magari c'è una cupola Sott'acqua O qualcosa del genere Che vengono qua Per il commercio Punto Basta Finito E tra l'altro Queste cose qua Non sono scontate O futili Perché già solo Se ragionate Nella situazione In cui poi C'è Una lotta Con questi demoni Se sei su una città Volante O se sei in una città Sott'acqua I pericoli E i rischi Sono diversi Cioè un'opportunità Può causare una crepa Nella cupola Che tiene fuori l'acqua Un altro caso Può essere Spingere giù Un demone Dalla città volante Cioè Sembra che stiamo Semplicemente raccontandocela Poi in realtà Molte delle opzioni Che avremo in gioco Derivano dalle risposte Che diamo Se poi infatti Ho messo Tratto di istintivo Ho messo solo tre Ho messo cultura Coltivazione Militare Magia Eccetera eccetera Cioè avete capito Una cosa Quindi Dai Dall'iglieti Intelligenti Magari ci sarà cultura Nel villaggio rurale Dei contadini Ci sarà coltivazione Magari Nelle driadi Nel villaggio degli elfi Ci sarà la magia Magari ci può essere L'insediamento del deserto Che in realtà è dove vengono I grandi guerrieri Delle sabbie Sto inventando cose Quindi E poi Scusate Uno che non può mancare Dopo militare Mettiamo commercio Sì O arte Commercio Arte Magari Magari Realizzano Realizzano Degli oggetti E così Vi siete fatti Il vostro coso Poi L'ultimo PNG Principali Perché metto PNG principali Allora All'interno dell'avventura Magari ci saranno Dei PNG Dove il master dirà Guardate Qua ci deve essere Per forza Per il livello della storia Il borgomastro E un altro personaggio Che ci serve Per le attività Che ci saranno Durante la festa Sto inventando Ragazzi Sto inventando Quindi Il PNG principale Se non voi Potrete andare A utilizzare Punti fabula Per inserire Dei PNG Che avranno vita All'interno Di questa storia Nulla vieta Che la sessione successiva Potete usare Un punto fabula Per richiamare Quel PNG Che però Logicamente Non sarà il PNG Diciamo Com'è che li abbiamo chiamati Scusatemi Che hanno dei nomi Questi personaggi qua Allora Vediamo nei punti fabula Eccolo qua PNG iconici Si chiamano PNG iconici I PNG iconici Non si può Saranno quelli Che saranno Ricorrenti In tutte le avventure Perché Li vedrete Nella parte introduttiva Quindi nella parte introduttiva Quando il master Racconta Quello che sta succedendo All'interno del mondo Verranno descritti Non lo so È arrivato Un editto Da parte Della principessa Di Smeraldo Quindi se dite Non viene la principessa Di Smeraldo Il guerriero Della luce Non si hanno più Notizie di lui E via dicendo L'esempio Che ha fatto Che ha fatto Se per qualche motivo Ci sarà una sessione Dove venite tutti quanti Catturati Dall'impero Di Melizia Sto inventando E siete giù Nelle segrete Vi svegliate E siete all'interno Delle segrete Cosa succede? Non è che voi potete dire Io Sono in realtà Il E uno dei PNG Iconici È Rudolf Il re Della gilda Dei ladri Voi non potete dire In realtà Sono Il fratello Di Rudolf Quindi So Come scassinare La serratura Sto inventando No So che all'interno Di questa Di questa Di questa Prigione C'è una mattonella Segreta Che togliendola C'è La chiave Della serratura Questo non si può fare Perché non si può andare A usare Un punto fabula Per legarsi A un PNG Iconico Ma nulla vieta Che voi diciate Io in realtà Sono un personaggio Canaglia Faccio parte Della gilda Dei ladri Posso Uso Un linguaggio Nascosto Per vedere Se c'è una Delle guardie Che è Un membro Della gilda Dei ladri Oppure Ancora meglio Io faccio parte Della gilda Dei ladri E so Che all'interno Della prigione C'è infiltrata Un altro membro Quindi Ci fai vadere Durante la notte Questo si può fare Tranquillamente Assolutamente Si può fare Vi dà lo stesso Identico risultato Uguale Perché lo scopo È uscire Dalla 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 Torniamo a noi Pam Allora PNG principali Qua In base a quello Che farete Potrete fare Quindi ci sarà Non so Ad esempio Lo sciamano Dei marini Di Il borgomasto Del villaggio Io parlo Di Quello che c'è scritto Ci sarà scritto All'interno Dell'avventura Un determinato Tipo di PNG Facile restere Questo PNG Il master Chiede ai giocatori Come è fatto Lo descrive Tutto quanto Così dopo Sa come ruolarlo Perché il PNG Invece che andate Inserire all'interno Saranno fatti Con i punti Saranno inseriti Con i punti Favola Che andrete a spendere Durante il costo Della sessione Dopodiché Quindi questi qua Sono PNG Diciamo canonici Dello scenario Esattamente Esatto La sirena Valeria Marini E mi dispiace Per me è talmente Terribile Che fa il giro E diventa bella Questa Secondo me Siamo veramente E veramente elevati Qua Quindi in una community Normale Saremo tutti bannati Però visto che A gestire la live Ci sono due persone Come noi Non possiamo Soffrire Voi avete messo La lancia Di Rollinus Quindi non è che Potete andare Esattamente A sindacare Legare i temi Della campagna L'origine dei personaggi Sono delle cose Più belle Dei giochi E comunicazioni Condivise del mondo Assolutamente Paolo Infatti Favola Chronicles Non c'entra Cioè Non so se Hai avuto modo Di giocare All'Adventures League E alla campagna Di D&D Sono due cose Completamente diverse Questo serve Paolo Per farti capire Tantissime persone E lo saprai anche tu Ma lo sappiamo tutti Dentro della community Che dicono Cavolo Vorrei tanto provare Favola Vorrei tanto giocare Favola Ma non riesco a giocarlo Non trovo nessuno Se tu vai a giocarlo Ti fai un'idea Comunque di Quanti elementi Condivisi Puoi metterci dentro I combattimenti Ecco I combattimenti Non cambiano nulla Dal Favola normale Che ti giochi a casa Sono gli stessi Sì Molti degli aspetti Meccanici Sono identici È un po' Come se giochi Una one shot Se tu giochi La one shot Non stai giocando Al Favola Vere e proprio Al 100% Però qua Si puoi mettere Molto del tuo Se l'aspetto Se l'aspetto Che però affascina È chiaramente Quello di Avere l'occasione Come dire Intima Del gruppo Che si costruisce Una storia Insieme Che tra l'altro Posso parlare Per me Io ad esempio Non mi piace Il gioco organizzato Perché Non è Non è esattamente Quello che mi stimola Che mi soddisfa Come giocatore OGM Nei giochi di ruolo Per una questione Di gusto Ma assolutamente Però qual è l'altra faccia Della medaglia L'altra faccia Della medaglia È che tu ti trovi Innanzitutto A giocare Dove vuoi Perché se tu hai La tua schiera PG Sei a Luca Comics Ci sarà La multitavolo Di fabula Quindi dici Ah cavolo Mi porto Da rusta Il mio personaggio Per andarla a giocare Oppure Una cosa Che vediamo molto Sei all'università Sei studente universitario Ti sei trasferito In una nuova città Ragazzi Le sessioni di giochi Di uno organizzato Dove trovi 40 50 persone Con la tua stessa Indica passione È un metodo bellissimo Per farsi nuovi amici Per condividere una passione Perché poi si crea Una community E poi più che altro Magari trovi Proprio quelle persone Con cui iniziare La campagna Casalinga Nel modo che piace a te Esatto Poi soprattutto Può essere un modo Per iniziare A stabilire un collegamento Esattamente come diceva Nico Quando sei in un posto Dove non conosci le persone Ma poi Paolo Pensa anche Una cosa Non esclude Assolutamente l'altra Cioè non si chiama Fabula Ultima Chronicles Fabula Ultima Trattino Chronicles Si chiama Fabula Chronicles Un po' come Non si chiama D&D Adventurers League Si chiama Adventurers League Cioè anche Noi vogliamo essere Molto chiari su questo Questo qua è Una campagna Perché al fine conto Se tu ti giochi Tutte le dieci sessioni Ti fai una campagna Che ti prende E ti accompagna Per mano Io non so se voi Avete mai avuto modo Di partecipare A delle convention Dedicate al gioco Di ruolo organizzato Ma l'idea Di farti ad esempio In tre giorni Una campagna intera Perché una volta Che usciranno Questa campagna Non è che il prossimo anno Che partirà la season 1 La season 0 Viene dimenticata Ci saranno sempre sessioni Quindi non so Tu potrai giocarti La season 0 La season 1 La season 2 Perché man mano Che andrai avanti Dopo avrai tutta la raccolta Delle avventure Quindi avrai 10 avventure per la season 0 24 avventure per la season 1 24 avventure per la season 2 E tu potrai Con i tuoi personaggi Andare a giocare Ci sarà Il mio sogno E fare la fabula con C'è proprio Una convention Dedicata a fabula ultima Dove per tre giorni Tu giochi avventure Di fabula ultima Solo fabula ultima Dove ci saranno Delle avventure speciali Magari Butto uno spoilerino Ema Ci saranno Della cross medialità Non so Magari uscirà Qualche videogioco E ci sarà Un'avventura di fabula cronical Dedicata a qualche videogioco Un po' come succede In Final Fantasy 14 Che c'è l'evento Dedicato a Dragon Quest O è dedicato a Come si chiama Ad altre cose No? Cioè Sì sicuramente Cioè Il punto è questo Se l'obiezione O l'osservazione Ma questo qua Non è Fabula ultima Infatti è fabula cronica Vero Non cerca Cioè non cerca di esserlo E anche il motivo Per cui tra l'altro Io praticamente Su questo Faccio della consulenza Ma non me ne occupo io Perché non è il mio campo Di competenza Ema Perché come autore Avete visto anche il fatto Io ho scritto Qual è la quotidianità Qual è il tratto distintivo Cioè Esattamente Io ho Nel senso Io ho già dieci domande Ok? Che sono Molto simili a queste Ma è anche Quello che volete avere voi Poi tra l'altro Sai Non è indifferente Che Chi arriva dal gioco organizzato Di altri giochi Magari Gli piaccia Il gioco organizzato Giochi quello di fabula Cominci a vedere Questa parte collaborativa Ridotta E questo lo porti A valutare A rivalutare fabula Che magari prima Aveva accantonato Perché lo spaventava Che fosse troppo Collaborativo Esatto Fargli vedere come funziona Fargli vedere che c'è un metodo Oppure Altra cosa Può essere utile Altra cosa Troviamo Perché Delle persone Che non hanno mai Giocato di ruolo Mai 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 giocato di ruolo E E magari Se si compro Il manuale base di fabula Non hanno la Creatività Passatemi il termine O L'abitudine Di improvvisare tutto Ci può essere Ecco il perché All'interno delle avventure Ci sarà anche La stesura Dove noi Ci sarà la domanda E la risposta Che diamo noi La piccola spiegazione La La sintesi Dell'avventura Cosa è scaturito E dopo di che Ci saranno Tips Per il GM Da dove deriva Il potere oscuro Perché Di inserire Questi 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 Diaboli Questi Questi nemici qua E Quali possono essere Delle La durata Delle varie sezioni Perché alla fine ci saranno Tre Ma seconda Sessioni No La realizzazione Della Della Dell'ambientazione Il perché i giocatori Sono là L'evento La festa Il combattimento finale Scena del GM Noi ci immaginiamo Che La creazione Condivisa Possa andare Da un quarto d'ora Se uno è molto veloce A mezz'ora Se uno è molto lento E vuole mettere più dettagli Deve essere una sessione Che dura all'incirca Tra le due ore e mezza Alle tre ore Non deve essere più lunga Ah ok Infatti ti volevo chiedere Qual era il margine La classica sessione serale Dalle nove a mezzanotte La classica sessione pomeridiana Per quanti pg? Quattro Cinque pg al massimo Ok E beh comunque È già una bella sfida Cioè non è che puoi perdere È come quando facciamo le demo Cioè tocca che la roba succeda Deve essere così Deve essere così Sì 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 Allora Una cosa importante Lo dico a chi magari Non ha mai avuto modo Di giocare a fabula ultima Fabula ultima Avendo i giocatori Sono corti di solito Le sessioni di favola Durano quattro ore Le sessioni di favola Durano tre Di solito O dodici Cioè nel senso Secondo me Cioè Considerate che Si fa sempre un livello A sessione qua Quindi cioè Si fa un livello A sessione secco Netto Non c'è il fatto Di quanti punti favola Perché Qual è questo? Perché se io ad esempio Sono una persona Che gioca con un gruppo Faccio l'esempio Io sono una persona Che gioca con un gruppo Che usa punti favola Come dei pazzi scatenati Sì sì I level up Non rimarrebbero in pari Esatto Se io ad esempio Vado alla sessione dopo E sono di livello Sette Perché ho speso Un sacco di favola E l'altro no L'altro magari arriva Ed è di livello cinque Magari c'è di livello sei E io vado avanti Quindi dopo sessioni Sono di livello nove Uno è di livello sette Di livello uno Sì dopo un po' Il divario inizia a sentirsi Sì Ma quindi I punti favola Si resettano tre A ogni sessione Sì si resettano tre A ogni sessione Ok Quindi Immaginavo No infatti è una delle regole Perché comunque Tre punti Se siete in quattro Avete dodici punti favola Sono un boato Sia per inserire elementi narrativi Sia per inserire PNG Sia per fare i reroll Sia per i legami Ad esempio i legami Ema La regola dei legami Sarà che All'inizio di ogni sessione Tu potrai avere I tuoi legami Sulla tua scheda Per Col tuo paese natio Con qualcosa legato Al tuo PG E avrai due legami Che si resettano Ad ogni sessione Con Dei PNG Con I giocatori Con chi vuoi tu Così li usi All'interno del gioco Sbini prima Faceva un'osservazione No? Chiedeva se si possono avere Legami Verso personaggi iconici Sì Perché sono le cose Legate a tutti Secondo me Tipo Oh tu magari Provi ammirazione Per il grande condottiero D'esercito Cioè Non è che Non è che vuol dire Che te lo chiami in causa Però è un sentimento Cioè Questo in realtà Questo in realtà È dove Il fatto che io Abbia impostato i legami Come qualcosa Che provi te Consentono di non doverli toccare Perché non stai dicendo Che il PNG iconico Prova qualcosa per te Stai dicendo che te Provi qualcosa Poi Guarda Andy Lui dice Per esperienza Mi è riuscito a fare Una sessione più corta Di torno e mezza Guarda Io sono dell'opinione Che è una sessione più corta Di tre ore Non ha senso farla Ma di tutti i giochi Di ruolo in generale Per fabula A particolar modo Però tre ore Io ho notato Che fai una gran bella sessione Cioè Bisogna Chiaramente Ci vuole un pochettino Di training E ci vuole Che la formula Sia studiata apposta Per le demo Per le demo Abbiamo dovuto pensarci Su come fare Io ho proprio Il mio schema Io e Emma Abbiamo uno schema Simile Io metto un combattimento Veloce in più Ma è una questione Proprio da demo Ti faccio vedere Le meccaniche Velocemente Tu sei più corto Sulla creazione condivisa All'inizio E hai lo scontro Di riscaldamento Sei più simile Al premi start La mia invece Differisce di più Però Alla fine Abbiamo trovato Un equilibrio Ripeto Lo scopo delle demo È diverso Dallo scopo Di Fabula Cronico La demo Serve a far vedere Il gioco Nel più ampio Spettro possibile Quindi Creazione condivisa Spesa di punti Fabula Combattimento Poi logicamente Mi trovo davanti Un gruppo che vedo Che ama solo ruolare E ha delle idee fantastiche Chi se ne frega Del combattimento So che quella Mezz'oretta Del combattimento Dopo i 20 minuti Del combattimento In mezzo Gli uso Per qualcos'altro Io Emanuele Comunque Passate il termine Siamo dei master Esperti Specialmente di Fabula Uno perché l'ha scritto L'altro Imbecille Perché l'ha Giocata alla nausea L'ha giocato Io ho fatto il conto Che ho fatto quasi 200 sessioni di Fabula Negli ultimi tre anni Quindi c'è Vuol dire Una sessione Ogni due tre giorni Cerca Quindi c'è Vi posso dire Che l'ho giocato Veramente tantissimo Sì sì L'hai giocato più di me Eh ma lo sai Quanto mi piace Ed è un gioco Per me Sapete che Io ho due giochi Di Need Games Per cui ho Un soft spot E gioco sempre E sono Un gioco non nostro Che è Old School Essential Un gioco Edito da noi Ma noi Siamo licenziatari E Fabula Non perché È un gioco nostro Perché quando Iniziato a giocarlo Ci avevamo due giochi Noi forse Tre giochi In Need Games Ma perché È un gioco Che amo Particolarmente Cioè Mi piace Diverse Cioè Proprio Da morire Quindi Ne approfitto Lo porto sempre E tre Perché è un gioco Che per le one shot Funziona La grandissima Non so che cosa giocare Aspetta Ho i mostri di Fabula Personaggi livello 5 Ormai vi preger Ragazzi Sul drive Condiviso Ce ne saranno Sessanta Cioè Sì sì almeno Quindi Ne prendo 4 a caso Pam Ragazzi Se sei in Fabula Ok Dai Prendo una mappa Questo qua è il mondo Da dove venite Qua 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 Qual è la minaccia Perché la cosa importante È la minaccia In base alle idee Voi fate combattere Tutte le minacce Ok Partiamo Kick off Tiriamo Ok Chi siete E si parte E si giochi È come giocarsi L'episodio pilot Di una serie Praticamente Allora guarda Mi piace Mi piace Andy Andy ha fatto la domanda Per cui Allora Andy Ogni sessione Ogni cosa Sarà il fatto Il mondo Che i giocatori Che sono degli avventurieri Sono i classici Classico JRPG Delle persone Che si trovano Dal nulla Piccolini E poi dovranno Sconfiggere Il male Che è Il cancro Del mondo Noi faremo Una trama Dove Logicamente Arrivati A questa A questo punto No Al Al fatto Che C'è questo Nel vario mondo In questo villaggio In questa location È successo Determinate cose In tutto il mondo Sarà successa Questa cosa qua E quindi anche I PNG Quindi la principessa Ismeraldo Scusate Dico la principessa Ismeraldo Ma è per far capire Un personaggio iconico Non è stata scritta Era solo inventata Io prima La capa Dell'ordine E dei maghi Non che è anche Imperatrice Del regno Di Leocanzia Emane In tutto Il mondo Un edito Che chiunque Abbia avuto modo Di affrontare E che abbia informazioni Sulle creature demoniache È pregato Di andare Perso L'accademia Reggia L'accademia Reggia Più vicina Per dare Informazioni Quindi Sessione 2 Dove vi trovate L'accademia Reggia Di E voi dite Dove vi trovate Uguale creazione Come è fatta Quest'accademia Quindi ci sarà Sarà una location Ben precisa C'era l'accademia Reggia Vi decidete Come è fatta Come è fatta Le biblioteche Come vengono Fatte gli studi Chi è il rettore Dell'accademia Reggia E tutto quanto E sarà lì Che voi direte Logicamente Temporalmente Come viene giusticata Questa cosa Quando i giocatori Saranno Una delle domande È Da dove venite Che cosa avete scoperto E come siete arrivati qua Quindi ci sarà Descritto Ho preso l'aeronave Ho il mio Ciocobo Piumato Ciocobo Naturalmente Non sarà su Twitch Ma sarà solo Sono venuto Sul mio Caramel Portatile Ho avuto Un cerchio Di teletrasporto E via dicendo E così Anche parlando I giocatori diranno Ah aspetta Ma tu che eri Sotto nei marini Ma quindi anche Sott'acqua E cosa c'era Ah perché ero Nei cieli Ah nei cieli C'erano Dei Diavoli volanti Dei gargoyle Che si sono animati E hanno attaccato tutti Ah da noi invece C'erano Degli squali Demoniaci E via dicendo Quindi sì Allora Gli eroi Saranno sempre Convocati In qualche modo Sni Perché Poi logicamente Ci sarà una marcia Verso Questo regno Che si pensava Perduto E quindi La sessione dopo Sarete tutti quanti In marcia Ci avrete delle missioni Esattamente come funziona L'avventura di Stigo O qualsiasi cosa Voi venite Ovviamente Se è un gioco organizzato Indirizzate Verso qualche parte Ma Come venite indirizzati Come lo raggiungete Cosa lo fate Sta a voi E sta alle domande Che voi rispondete Questo è Questo infatti È il punto di contatto Quando facevo L'analogia Con gli MMO Che è Lì molto più Che In realtà Parzialmente Perché ormai Anche nei titoli JRPG Le quest E il concetto Di sub quest Abbonda Però ad esempio Nei vecchi Giochi C'erano delle Più missioni Segrete opzionali E poi avevi Una trama Molto diretta Che era Tutta Incentrata Molto Sul gruppo Di eroi Mentre invece Nell'MMO Hai una realtà Diversa Infatti Loro Furbamente Cosa hanno fatto Cioè Sono tutti Eroi della luce I personaggi Quindi poi Partecipano I ride Perché Perché è normale Cioè tu devi Flettere la trama Su quella che è L'esperienza Di gameplay Che vai a creare Che naturalmente E ma Anche qua Ci saranno Nessun quest Perché fondamentalmente La macro trama Cosa sarà C'è qualcosa Si sta risvegliando Che cosa Lo decideremo Assieme nella creazione Condivisa I personaggi Ne verranno a conoscenza Ci sarà questa Convocazione Bisognerà Andargli a studiare Meglio In diverse location Si capirà Che cos'è Questa cosa qua Ci sarà la convocazione Nella città imperiale Ci sarà La corsa Agli armamenti Dopodiché Ci sarà La trasferta Verso questa location Ci saranno Delle scoperte Il classico Switch Perché nulla vieta Che ci saranno Dei cattivi nel mezzo Che poi in realtà Potranno perfettamente Diventare degli alleati I vari generali Quindi ogni gruppo Avrà dei capi Con dei generali Altre cose Che daranno Altre informazioni E alla fine Ci sarà il mega scontro finale Una multitavola Una cosa Che è un super cliché Sia Dei JRPG Sia del mondo I fantasy Ma ragazzi I JRPG Vivono Di cliché Cioè Deve essere Questa cosa qua Chi ha giocato a Dragon Quest 11 C'è comunque Lo slime che si cavalca C'è i cavalieri slime C'è nel senso Nico comunque Per me è canonico È melm carrimel È troppo bello È troppo bello Melm carrimel Aspetta Nota Now Telefona Altra domanda Gli arcana Verranno tutti creati da zero Quelli dentro la campagna Ho darete una piccola rosa di arcana Tra cui scegliere agli arcanisti Che non si è portati a spiegare Cosa sono gli arcani In questa ambientazione Altrimenti ognuno Si gioca i fatti suoi Non serve neanche Che ti risponda Ma ti leggo Arcanista Oltre a quello iniziale Gli arcani ottenibili Saranno inseriti Nel corso dei capitoli Sì È giusta l'osservazione È giusta l'osservazione Corsa gli armamenti Andy Nota bene Master Se in questa sessione Avete un arcanista Tra i vari nemici Che dovranno sconfiggere Ci sarà Sto inventando Andy L'arcano delle ombre Che una volta sconfitto Si unirà All'arcano Si potrà ornire Voler Solo vorrà All'arcanista Diventerà il nuovo arcano Dell'arcanista Andy ha pescato Una domanda importante Se sceglie La quercia E poi nei capitoli C'è la quercia No Ragazzi Gli arcanista In realtà Questa è una cosa È un doppio uso Potrebbe essere Se hai Cioè se c'è un arcanista Che ha vincolato quello Ha certi benefici Se invece Non ha vincolato L'arcano di quella sessione Può vincolarlo Allora Personale Allora Quello che faremo In realtà No Perché Gli arcani Che verranno inseriti Saranno Originali Quindi Ah ok Così è esattamente Oh auguri Vabbè ce ne sono due Perché l'ultimo in realtà Quello finale Sarà Una season reward Che puoi usarlo Come di partenza Se vuoi fare un arcanista Nella season successiva Rispondo brevemente Scusa Green Dorian Gli atlanti Non è previsto Che aggiungano Nuove opzioni Al cuore Di una classe Perché io voglio Che una classe Uno possa seguirla Su un libro Che non devi cominciare A balzare Ma Possono Nel caso Della Sono poche E quindi Ampliamo E' possibile Che Ad esempio Su arcane Simili Ci sia più che altro Dei consigli Su come gestirli Narrativamente Gli arcani Di un tecnofentasy Magari non sono Come gli arcani Di un high fantasy Però no Non saranno Opzioni extra Le classi Sono quelle Che è anche il motivo Per cui le playtest Alla nausea Perché poi Una volta uscite Non le puoi più toccare E' proprio figo L'Atlante Comunque Che si stanno piccando dentro Cioè sono molto Esaltate Da parentesi Ma ve lo possiamo dire Un mega spoiler Abbiamo la copertina Ufficiale dell'Atlante Sì è vero Morio Ce l'ha consegnata Proprio a Natale Cioè il regalo di Natale È stata la copertina Dell'Atlante Cioè Proprio Una cosa Ed è Bellissima Sì è vero È molto D'altronde è l'Atlante High fantasy Quindi è molto carica Guarda possiamo Possiamo dirvi Che cosa c'è C'è il colore fucsia C'è il colore arancione E C'è anche del verde C'è del verde C'è una nave volante La gente starà dicendo Eh ma come cavolo C'è una nave volante C'è una nave volante C'è una nave volante C'è una nave volante C'è un drago C'è un drago Ci sono le classi nuove Scusate sì Scusatemi Scusa 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 Endi Ha ragione È vero Stavo facendo le domande Endi ci riporta all'ordine Ragazzi c'è Non rompere tre palle C'è Allora Endi poi si è scusato Scusata scusami Se Si ha fatto Si ha fatto troppe domande In realtà l'ho ringraziato Perché sta facendo De domande bellissime Ma più che altro Perché sto rispondere a queste domande Perché sennò tipo Suderei freddo E direi Oh cazzo Non ci ho pensato Fatemi moderatore Ecco che arriva Guarda Guarda che subito Che la lancia Mamma mia Terribile Allora No no Mi identifico in male Bene Allora Scusatemi Non mi ricordo più Cosa stavamo parlando Cosa stavamo parlando A degli arcani C'è una domanda Sì Ah mamma In mail Come maschio Scusami Scusami Endi C'è Mi identifico in male No perché Dicendo moderatore Moderatore di solito è il male Quindi Esatto Esatto Era anche legittima Quella Bellissimo Bellissimo Ottimo Grazie Grazie Endi Per la precisazione Perché nel stesso Però anche come Rimessa l'ordine Potrevi anche Identificarti nel male C'è nel senso Sì no esatto 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 E Apparenti sono le due Sono le due In effetti Sono le due Comunque Giusto per farvi Qualche 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 Perciò Perciò che riguarda La festa Esattamente Nella stessa Identica Maniera Ci saranno Cinque Domande Quattro Domande Scusatemi Su Come Viene Fatto Festeggiamenti Che attività Ci sono Perché ci saranno Le classiche Sotto Quello Cioè Partecipare a Passatevi il termine La gara di Salsicce Birra Come viene Rievocata La grande Battaglia Magari Magari Non so Vengono Fatti Giocare I bambini Con le Spade Di Legno E Gli adulti Puntano Gli hanno Addestrati Durante Tutto L'anno A fare Il Combattimento Il Magistrato E Scusatemi Il Borgomastro Si Tavestre Dal Re Dei Cattivi E Deve Sconfitto Dai Bambini Tutte cose Del genere Cose Molto Simpatiche Però Qualcosa Va Storto E Lì Si Inizia I bambini Erano Armati I bambini Ammazzano Il Borgomastro Cioè Comunque Questa Cosa Qua Completamente Fuori Tono Esatto Noi Entro Breve Faremo Uscire Il Si Tavrenti In realtà Sbi Sembra la Sessione di Natale Che abbiamo Creato Ma in realtà Non c'entra Sidente Nulla Che avete Creato Il Borgomastro Uccide I bambini Madonna Mia Rob Cioè Nel senso Un attimo Da fabola Ultima Fabola Oscura Vero Emanuele Torniamo qui Quindi Dopo una volta Fatto questo Si parte Con la sessione Dove il master Dovrà Improvvisare Come in tutte le sessioni Favola Ultima C'è il kick off Vi trovate all'interno Del villaggio C'è la festa Fate Mobis Dove si Ruolerà L'arrivo Dei personaggi Si ruoleranno Gli eventi E poi si ruolerà Comunque L'arrivo Dell'oscurità No Come diceva prima Ema Se c'è il sapiente Se non c'è il sapiente C'è da dove Da dove è che vengono Cioè qua il master Sarà libertà del master Se il giocatore C'è un sapiente Fa da dove arriva Questo potere Il potere Viene da I tomi Da lì C'è una location Specifica Che aveva Questa tipologia Di magia oscura Il borgo 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 No loro mangiano Non sono come noi Loro possono Infine ci sarà Le schede pg Dell'appunto Del png Se ci devono essere O dei png Come intesi Come Gli antagonisti I cattivi Che sta Il master Deve Decidere Ovvero Se siete Negli ieti Possono essere spiriti Che arrivano dai libri Se siete nel villaggio Possono essere uno spirito Magari che si impossessero Del corpo Di alcuni abitanti Del villaggio Se siete nella città volante Possono essere dei gargoyle Se siete nel Nel bosco Possono essere Degli spettri oscuri Della foresta E via dicendo L'importante Che ci sarà scritto Il tips Fate capire Che sono delle creature Mosse Da magia oscura Che sia appunto La possessione Che sia degli elementali E via dicendo C'è problema Che si fasse capire Che siano Delle creature oscure Io dico creature oscure Se poi in realtà L'ambientazione Che andiamo a creare Sarà l'ambientazione Egizia Sto inventando Manca un JRPG egizio C'è qualcosa JRPG egizio C'è Tipo Un JRPG Di Yu-Gi-Oh Dove vanno in Egitto Cioè Mi pare che ci sia Una roba del genere C'è anche in persona 5 Un boss Che è una specie di Vabbè Tutto il dungeon Di quell'arco lì E stile egizio Però comunque è così C'è E JRPG Comunque C'è degli gnocchi al sugo Ma porca miseria Comunque Così è per farvi capire Come dovrà essere gestito Gestito il tutto Detto ciò Sono arrivate le due A breve Entro tempi brevi Bene Innanzitutto tra la settimana Quest'ora Avremo fatto l'introduzione Quindi andremo a capire Di che cosa parleremo Sarà i fantasy Certo qua ve lo dico già Cioè nel senso Non sarà nello fantasy Sarà i fantasy Facciamo l'Atlanta E i fantasy Quindi fate i fantasy E la prima stagione Cioè O meglio In tutte le stagioni Si usano i materiali usciti Esatto Quindi la roba di playtest Non è valida Non è canon Non si può usare Mi dispiace molto Però Ci sanguina il cuore Anche a noi Esatto Io amo i moguri E loro non possono essere cattivi Solo posseduti Ecco invece Io i mugo Li faccio sempre Come se fossero Creature oscure del male Non so perché C'è I auguri sono bellissimi Io li odio Con tutto me stesso Un po' Amma mia Però Sono arrivato ora Cosa sarebbero le stagioni Vabbè Criogenica Ti riguardi No lo so Però c'è Partendo da c'è Per prima volta Le stagioni Sono le campagne Sono le season Di Fabula Chronicle La prima La season zero Che è quella Diciamo introduttiva Partirà a febbraio E dovrà Fino a giugno Dopodiché invece La prima season Vare e propria Partirà a settembre E durerà fino a giugno La prima avrà In circa Dieci sessioni Più una bonus Alla fine Una volta finita Tutta la campagna Ci sarà Visto che siamo a giugno Le persone vanno al mare Ci sarà una sessione bonus Diciamo così Che verrà molto Molto bene Dalla Marta Prima di farlo uscire Dopodiché Partirà invece Da settembre Evans World Mi ha insegnato Diarimo Guri Bravo Invece da settembre Partirà la prima season Che saranno In circa 24 sessioni Circa Vedi che Rob Rob è un uomo di cultura 24 24 sessioni Circa Ottone Basta lo stare Stai facendo un casino Allucinante 24 sessioni Quindi vi porterà I personaggi Circa dal quinto Al trentesimo livello Nulla vieta Vediamo un po' Che magari La season 2 Parta da un livello Lievemente più alto Per lievemente Intendo massimo Al decimo livello O più basso Vi facciamo partire Al meno 5 Meno 5 Chi siete Siete la spagna Avete punti vita negativi Esatto Ho creato Moguri gourmet Chimerista Viandante Con una cucina Semiautomatica Portatile Come compagno fedele Sei un genio Incredibile Bellissimo Bene Bene Non vedo errori Non vedo veramente errori Beh io ho creato Un gourmet Pilota Viandante Con una cucina Semiautomatica Portatile Che diventa Il suo meca Madonna Non troviamo quel pigino Allora Io spero Che vi siate divertiti E divertite Grazie Emma Innanzitutto Grazie Emma Per la tua consulenza Sul gioco di ruolo organizzato Grazie Un grazie gigantesco Alla community Veramente Grazie mille Vi ricordo Che sarà fatto La settimana prossima Invece faremo le cose Seriamente Cioè nel senso Ci saranno delle domande Che seguiremo le domande Ragazzi Della creazione del mondo Quindi se voi volete Già prepararvi qualcosa Andate a pagina Così poi chiudiamo Non mi ricordo Quindi dalla prossima Dal prossimo mercoledì Parti con le puntate Sì Sì Ok E la pagina Per la creazione del mondo 146 No aspetta 148 Allora 148 Cioè andremo a pagina 148 E faremo Dall'1 al 7 No Scusatemi Faremo Ecco Fino a magia e tecnologia Cioè parleremo Faremo intanto Tutta l'introduzione Bene Di che cosa è Fabula Chronicles Noi avremo delle domande Faremo delle risposte Faremo dei sondaggi In tempo reale Prenderemo anche Le vostre I vostri consigli Dopodiché Per una settimana Di tempo Quindi da Quando finisce la line Il tempo di fine Quindi diciamo Dal pomeriggio Di mercoledì prossimo Fino All'inizio Della live successiva No Fino al lunedì Fino al martedì Perché dopo devo preparare Le risposte In base a quello Che è stato fatto Avremo quindi I diagrammi a torta Andremo dopo A preparare le domande Per la sessione successiva Quindi voi avrete Voi e tutte le persone Che hanno mancato la live Una settimana di tempo Per andare a votare Non so Da cosa deriva la magia Faccio un esempio Da I semi magici Degli alberi Da delle magiosfere Create Da dei maghi antichi È una magia innata Che ne cresce In ogni In ogni persona Che nasce E via dicendo Faremo delle votazioni E in base alle votazioni Più alte Ci sarà la cosa canonica Raga ma sento Sempre parlare Di questo drive Ufficiale di fabula Ma dove si trova Sbini se ci sei Lo puoi linkare Se Andy Non so se fai parte Del nostro telegram C'è un telegram ufficiale Di fabula ultima Italiano Che ha più di 500 iscritti Ti avviso Spammano come dei pazzi Build Mostri Idei di campagna Dalla mattina alla sera Lì c'è Il pinnato in alto Tutti i materiali ufficiali E anche il drive Se tu vai sul drive Trovi l'ira di dio Veramente l'ira di dio Di cosa Se no sbini Ti ha appena Linkato il drive Dentro c'è di tutto Cioè ci passi le ore A spulciarlo Da schede prefatte Mostri Idei per campagne Illustrazioni Veramente mappe Di tutte di più Forse ci sono già Dei kick off Veramente l'ira di dio Quindi lì trovi Qualsiasi cosa Comunque Per tornare a noi Ragazzi Ragazzi Io vi ringrazio Grazie per essere stati con noi Settimana prossima Si parte Con mega Super Creazione condivisa Ufficiale Della season zero Sto molto emozionato Io amo molto in realtà Il gioco organizzato Per quello che mi ha dato Mi ha fatto entrare Nel mondo dei giochi di ruolo Quindi professionalmente parlando Quindi ci sono molto legato E ho conosciuto Tra i miei più cari amici Adesso nella mia vita Grazie al gioco di ruolo Organizzato Quindi spero che sia così Anche per voi E soprattutto Creare un gioco di ruolo Organizzato Mondiale Per un gioco Originale Nostro E' fighissimo Poi spero vi divertiate Poi basta ruolare a faboli Io sono felice Quindi Noi ci vediamo Venerdì non so se facciamo la live Perché noi facciamo il ponte Stranamente ci prendiamo due giorni Anche se in realtà Faccio Legget Faccio ruolare Dalla mattina alla sera Domani faccio 12 ore E venerdì Sicuramente la mattina Faccio una sessione Playtest di questo Ti oscuri Oscuri risvegli E non so se la farò anche il pomeriggio Anche la sera Comunque non lo so Ma quindi La playtest In questa settimana O la prossima Io questa settimana La playtest Sbini Sai che io faccio Non vi potete prenotare prima Cioè io faccio il post E chi prima arriva Mi alloggia Per tutti quanti Guarda Guardi che già ci aiutavano No perché Sono persone che mi scrivono E certo Ho tipo 20 persone E non so Che mi hanno scritto prima Quindi Non sappiamo Se ci sarà Tankshot Is Friday Sono sincero Quindi vediamo Se ci sarà bene Se no ci vediamo lunedì Io vi auguro Una buona befana Spero che vi porti a tutti Tanto carbone di zucchero Che non so voi Ma io lo amavo Quando ero bambino Quindi mi comportavo male apposta Se vuole carbone di zucchero Una bella calza Pienissima Di dadi E che abbiate Da domani Fino a domenica Per ruolare Durissimo Perché se no Vi ricordo Siete dei marchino Che vogliono Tutto il gioco prefatto E non vogliono Improvvisare nulla Quindi Ciao A tutte E a tutti E grazie Per essere stati con noi Ciao Bye